Ciao a tutti, sono Alice Ciotti del team di RCD Hotels, sono qui oggi con Volo Online per presentarvi una delle strutture di questa catena d'alberghi messicana, ovvero Unico 2087 Riviera Maya. Questo albergo è un 5 stelle all inclusive di altissimo livello per soli adulti, anche affiliato a The Leading Hotel of the World e abbiamo un concept molto giovane, molto fresco. Ci troviamo in una posizione molto strategica in Messico, quindi tra la Riviera Maya e Tulum, siamo su una spiaggia meravigliosa, sabbia bianca, dove abbiamo anche le tartarughe che vengono a deporre le uova, abbiamo costruito dei ponti per accedere alla spiaggia proprio per non toccare la vegetazione circostante. Non abbiamo neanche strutture vicine, quindi la spiaggia è meravigliosa per delle lunghe passeggiate o delle bellissime nuotate. Unico è una struttura relativamente grande, abbiamo 440 camere, tutte quante con la vista mare. La struttura ha quattro piani al massimo, quindi circondata dal verde, bellissime viste, non dà per niente l'idea di essere così grande, ma soprattutto per me la grande sorpresa è stata la personalizzazione del soggiorno, perché ogni cliente dal momento che entra, ogni ospite è trattato come un re, sono seguiti dal momento in cui arrivano, dal check-in al check-out. Ogni ospite ha a disposizione un maggiordomo personale, ma siccome siamo giovani non lo chiamiamo maggiordomo, lo chiamiamo local host, quindi un local host a disposizione per darvi dei consigli, fare la valigia, prenotare i ristoranti. Abbiamo quattro ristoranti internazionali, per il pranzo e la colazione c'è il ristorante a buffet vicino alla spiaggia, per la cena invece abbiamo tre ristoranti diversi, l'asiatico, il mediterraneo e il messicano, tutti quanti con prodotti freschi di origine locale e con terrazza esterna e parte interna. Più abbiamo anche vicino alla lobby una buonissima caffetteria, sempre pronti per gli snack, panini, salate, frutti. Abbiamo anche delle lounge e cigar bar, quindi diverse atmosfere per ogni ristorante, ogni occasione, non vi potete mai annoiare. Siamo gli unici in Riviera Maya ad offrire le inclusions, ovvero incluse nella tariffa di soggiorno. Abbiamo una serie di escursioni, trattamenti spa e golf che sono inclusi. Trattamenti spa nella spa meravigliosa di Unico, con tutti i prodotti naturali. Poi abbiamo come esperienze locali, la diving experience con quattro immersioni, oppure giri in barca, snorkeling, andare a visitare Tulum e il golf si trova a un quarto d'ora da Unico, è il golf dell'hard rock Riviera Maya, il transfer è ovviamente organizzato da noi ed è incluso. Il cliente paga solamente 25% di tassa di servizio per ogni trattamento scelto, quindi vuol dire che se vuole fare un massaggio di 100 dollari pagherà solamente 25 dollari di tassa di servizio. Inoltre la struttura si presta benissimo per qualsiasi tipo di evento, perché è molto ampia, sia eventi, meeting, riunioni di lavoro, presentazioni, cerimonie, tutto quanto a disposizione. Tra l'altro abbiamo anche il personale di servizio che vi potrà assistere a creare l'evento dei vostri sogni.